Una buona giornata a tutti quelli che ascolteranno questo videomessaggio. Oggi è domenica 11 ottobre, sono appena rientrato dal culto, stamattina è stata veramente una benedizione particolarmente forte ed è stata una gioia poter condividere la comunione fraterna insieme ai fratelli. E mentre mia moglie prepara il pranzo, volevo spendere qualche minuto per completare l'argomento che ho pubblicato ieri intorno ai Dieci Comandamenti. Ieri ho pubblicato un audiomessaggio dove c'erano delle foto proiettate e un video di 30 secondi illustrativo per mezzo del quale abbiamo visto in un modo tecnico-pratico, abbiamo visto un po' la spiegazione di quello che abbiamo letto nella lettera di Giacomo al capitolo 2, il versetto 10. Durante la registrazione di ieri ho fatto una breve presentazione di che cosa sono i Dieci Comandamenti e poi ho spiegato, ho cercato di spiegare a cosa servono ma ho inteso l'utilizzo che ne fa la religione. In realtà i Dieci Comandamenti hanno uno scopo diverso che vorrei guardare oggi con voi. Ieri abbiamo visto con quel audiomessaggio che quando trasgrediamo un solo comandamento siamo colpevoli di tutti i comandamenti e quindi con la violazione del comandamento numero 9 che è quello che dice non attestare falsa testimonianza con la violazione di quel comandamento noi ci siamo resi colpevoli di tutti i punti. Ieri abbiamo detto, sono sicuro che come è stato detto ieri ogni essere umano su tutta la faccia della terra almeno una volta nella vita ha detto una mezza verità e quindi essendo colpevoli di menzogna come abbiamo potuto vedere così come è scritto nella lettera di Giacomo che adesso andiamo a rileggere avendo violato un solo punto siamo colpevoli di tutti i punti. Oggi vorrei vedere insieme a voi invece a cosa servono veramente i Dieci Comandamenti qual è lo scopo dei Dieci Comandamenti abbiamo visto che per la religione sono il metro di misura che l'uomo religioso usa per rapportarsi con Dio in realtà i Dieci Comandamenti hanno uno scopo diverso adesso lo andremo a vedere intanto prima vorrei di nuovo farvi vedere quel breve video di 30 secondi e poi eventualmente vado alla conclusione velocemente con quello che ho in cuore di dirvi oggi sarà un video messaggio molto breve però credo che meriti un completamento perché quello di ieri come ho scritto nella prima parte per mezzo della quale ho desiderato farvi vedere che tutti gli uomini sono peccatori non c'è nessun giusto come abbiamo anche letto come abbiamo anche pubblicato come scritto nella lettera ai Romani capitolo 3 versetto 23 non c'è nessun giusto tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio quindi essendo tutti peccatori tutti meritiamo la condanna condanna che come abbiamo detto ha preso Gesù su di sé al posto nostro adesso vi proietto di nuovo il breve video e poi dopo commentiamo questi appunti che il Signore ha messo sul mio cuore di condividervi ecco adesso faccio partire di nuovo il video ecco in questo momento state guardando di nuovo la mano con la mezza verità che va a violare il comandamento numero 9 e come possiamo vedere la violazione di questo comandamento fa sì che anche tutti gli altri comandamenti subiscano diciamo così una violazione ecco qua come potete vedere tutti i palloncini sono sgonfi torniamo adesso alla nostra meditazione noi come abbiamo già detto e come abbiamo appena rivisto vediamo un po' che cosa è successo è successo quello che è scritto nella lettera di Giacomo al capitolo 2 il versetto 10 ve lo voglio rileggere così ci rinfreschiamo un po' la memoria lettera di Giacomo capitolo 2 versetto 10 chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo si rende colpevole su tutti i punti voglio leggervi anche il versetto numero 11 andiamo avanti poiché colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere quindi se tu non commetti adulterio ma uccidi sei trasgressore della legge cosa possiamo dire di questi passi letti il versetto 10 abbiamo già visto nel video avendo detto una mezza verità noi siamo colpevoli su tutti i punti perché questo è successo perché dice che colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere cioè la bocca santa di Dio ha pronunciato sia il comandamento non attestare il falso sia non uccidere sia non commettere adulterio quindi come quei palloncini erano legati a un unico tubo alimentati da una sola aria così anche i dieci comandamenti sono usciti da un'unica bocca che è quella di Dio santa e perfetta quindi avendo violato un comandamento di Dio noi abbiamo violato tutta la sua legge perché tutti sono collegati tra loro come avete visto così come sono usciti e proceduti da una sola bocca dalla stessa fonte di giustizia e di santità che è la persona di Dio detto questo possiamo concludere direi dopo aver detto questo che ogni uomo è peccatore ogni uomo è colpevole davanti a Dio per aver violato la sua legge e siccome Dio è santo e giusto egli non può passare sopra il peccato non può far finta di niente bisogna pagare un prezzo per questa colpa e chi è che ha pagato il prezzo? il Signore Gesù morendo sulla croce egli si è caricato della nostra condanna noi meritavamo quella condanna per quella violenza quella mezza verità ecco ci ha reso colpevoli di aver trasgredito tutta la legge di Dio e per questo motivo meritavamo la condanna condanna che Gesù volontariamente ha preso su di sé sulla croce per salvare noi ha pagato il nostro prezzo ha pagato al posto nostro e allora adesso chiediamoci perché Dio diede i dieci comandamenti? a cosa servono? qual è lo scopo dei dieci comandamenti? per la religione i dieci comandamenti come abbiamo visto ieri sono il metro che usa per relazionarsi con Dio per vedere qual è la sua temperatura spirituale diciamo in realtà i dieci comandamenti come dice la scrittura sono stati dati per farci comprendere il bisogno che abbiamo della salvezza i dieci comandamenti sono stati dati proprio per farci comprendere che abbiamo bisogno di un salvatore che abbiamo bisogno di salvezza la scrittura dice che sono il pedagogo per conduci a Cristo cioè attraverso la consapevolezza della nostra violazione l'abbiamo visto ieri e l'abbiamo rivisto stamattina avendo violato tutti i comandamenti ecco questi comandamenti diventano diciamo così la strada che ci conduce a Cristo per chiedere la salvezza per dire Signore ecco io non sono capace di adempiere la tua legge ho bisogno che qualcuno lo faccia al posto mio e l'ha fatto Gesù per te e per me quindi i dieci comandamenti sono il pedagogo per condurci a Cristo per farci andare a Lui a fare che cosa a dire Signore salvami Signore io sono in una situazione disperata la mia mezza verità mi rende colpevole di tutta la tua legge tu a causa della mezza verità sei anche adultero sei un omicida perché perché hai trasgredito tutta la legge come abbiamo detto ieri Dio non terrà conto della tua mezza verità Dio quando guarderà quei palloncini tutti sgonfiati che è la violazione dei dieci comandamenti tutte le scuse che camperai non serviranno a nulla perché perché hai violato la sua legge per questo sei colpevole punto dove sta la soluzione la soluzione è la croce di Cristo Gesù ha pagato il prezzo della condanna che meritavo io quindi credendo in quell'opera benedetta e meravigliosa me ne è proprio per fede credo in Cristo credo in quello che egli ha fatto ricevo Cristo come mio personale salvatore ed ecco che la condanna che io avrei dovuto pagare non la pago più perché perché l'ha già pagata lui lo ha già fatto lui per me duemila anni fa ecco a cosa servono i dieci comandamenti non a fare l'esame di coscienza prima di andare davanti al confessionale no perché davanti al confessionale se sei onesto quando vai dal sacerdote gli devi dire io ho trasgredito tutti i dieci comandamenti perché così dice la scrittura e allora non servono a fare l'esame di coscienza su cosa confessare a sacerdote i dieci comandamenti i dieci comandamenti servono per farti comprendere che hai bisogno di un salvatore che hai bisogno che qualcuno ti salvi e chi era colui che poteva adempiere i dieci comandamenti la legge di Dio solo uno santo perfetto e giusto poteva farlo per noi che è il signore Gesù capite a cosa servono i dieci comandamenti non a confrontarti col tuo vicino di casa se è più peccatore di te o meno non servono per farci sentire migliori degli altri ah quello lì è un ladro io ho detto solo una mezza verità io dico solamente delle bugie però non ammazzo nessuno quindi quello che l'omicida il ladro è peggio di me vedete la religione usa i dieci comandamenti per fare la classifica dei più buoni e meno buoni in realtà nessuno di noi è buono non c'è nessun giusto dice la scrittura e l'abbiamo visto perché tutti abbiamo detto una mezza verità e quindi siamo tutti colpevoli della violazione della legge di Dio e allora perché continui a rimanere sotto la maledizione della legge se è chiaro che non potrai mai soddisfare la giustizia di Dio per mezzo dell'osservanza dei comandamenti esci da questa maledizione rifugiati in Cristo vai sotto la croce deposita lì i tuoi peccati signore ho detto una mezza verità che mi ha reso colpevole di tutta la tua legge te lo confesso salvami questo deve essere l'atteggiamento questa è la preghiera che voglio fare signore per te oggi perché in Cristo c'è salvezza ancora oggi qualcuno potrebbe dire ma mi sembra esagerato che una mezza verità sia così grave beh allora se ti sembra esagerato che una mezza verità sia tanto grave tu non hai compreso quanto è grande la santità di Dio Dio è troppo santo Egli è santo giusto Egli non può tollerare la presenza del peccato per Dio una mezza verità è un'offesa enorme perché Egli è la verità e per colui che è la verità per colui che è la verità una mezza verità è un'offesa gravissima se ci sembra esagerato che una mezza verità sia grave vuol dire che non abbiamo compreso quanto è santo il Signore e anzi vi dico un'altra cosa Gesù è morto a causa della nostra mezza verità Gesù è andato sulla croce a causa di una mezza verità che ho detto io che poi in realtà come abbiamo potuto vedere non è solo una mezza verità ma è la trasgressione di tutta la legge quindi noi reputiamo una mezza verità una cosa da niente per Dio è talmente grave che ha dovuto far morire il figlio sulla croce a causa di quella mezza verità perché quella mezza verità ha comportato che cosa la violazione la violazione di tutta la legge di Dio niente offende Dio più di una mezza verità una mezza verità è un'offesa enorme per la persona di Dio che è santo giusto ed è la verità andiamo alla conclusione qualcuno potrebbe dire ma allora i dieci comandamenti non servono proprio a nulla ho già spiegato che servono per condurci a Cristo a chiedere salvezza servono per farci comprendere che abbiamo bisogno di un salvatore e poi una volta che sono stato salvato non devo mettere in pratica i dieci comandamenti qualcuno potrebbe chiedere Gesù ha detto una cosa meravigliosa dice se mi amate osserverete i miei comandamenti i miei comandamenti non sono gravosi ma quando è che non diventano gravosi i suoi comandamenti quanto è lui che vive in noi quindi se ti stai chiedendo ma allora i dieci comandamenti una volta che ho ricevuto Cristo come salvatore li devo strappare no non vanno strappati egli vivendo in noi adempiere quello che noi non siamo capaci di adempiere quindi dov'è poi il segreto il segreto è uno solo come si diceva stamattina durante il nostro culto lasciar vivere Cristo attingere ogni giorno dalla grazia lascia vivere Cristo nella tua vita quando Cristo vive nella tua vita sarà lui a fare quello che è giusto nella tua vita quindi non ti porre più il problema di che cosa devo fare piuttosto preoccupati di lasciarlo fare nella tua vita e come lo puoi lasciar fare nella tua vita questo lo dico a tutti i credenti che mi stanno ascoltando a tutti i fratelli in fede come possiamo lasciarlo fare ecco morendo ogni giorno a noi stessi e lasciando vivere lui al posto nostro lasciamo allora anche gli amici che sono in ascolto se ti stai chiedendo bene ho capito che sono un peccatore perduto perché la mia mezza verità mi ha reso colpevole di tutta la legge di Dio che cosa devo fare adesso devi andare a Cristo devi andare a Cristo ti voglio leggere un passo meraviglioso un passo bellissimo che chi legge la Bibbia avrà letto e riletto e riletto tantissime volte nel Vangelo di Matteo al capitolo 28 il versetto 11 il Signore Gesù dice Matteo 11 28 scusate ho invertito Matteo capitolo 11 versetto 28 il Signore Gesù dice qualcosa di meraviglioso ascoltate venite a me voi tutti che siete affaticati oppressi e io vi darò riposo prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le anime vostre poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero ecco con queste parole Gesù vi sta proprio invitando ad andare a Lui vai a Cristo se senti che il peso del peccato ti sta schiacciando se sei affaticato e oppresso dal tuo peccato oggi il Signore ti dice vieni a me getta il peso del tuo peccato ai piedi della croce ed egli ti darà un riposo il riposo dell'anima il riposo del cuore quel riposo di cui ogni essere umano ha bisogno quindi l'invito del Signore oggi è questo venite a me venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati liberati dalla schiavitù della legge dal gioco della legge prendi su di te il carico del Signore che è dolce e leggero che è il carico della grazia e gli dice perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero questo è il gioco della grazia dolce e leggero rifugiati nella grazia di Dio rifugiati sotto la croce di Cristo che è l'unica fonte di salvezza rifugiati in Lui e troverai riposo all'anima tua troverai riposo per il tuo cuore egli ha preso su di sé le nostre colpe le nostre condanne la condanna che noi meritavamo egli se ne è caricato per salvarci il profeta Isaia al capitolo 53 dice al versetto 4 erano le nostre malattie che egli portava erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato ma noi lo ritenevamo colpito percosso da Dio e umiliato notate cosa dice il versetto 5 egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni stroncato a causa delle nostre iniquità il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti noi tutti eravamo smarriti come pecore ognuno di noi seguiva la propria via ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti i nostri peccati sono ricaduti tutti su Gesù Dio ha caricato su Gesù i peccati di tutti noi per salvarci ma bisogna che tu vai a Cristo bisogna che tu lo invochi che tu lo cerchi che tu lo chiami che tu ti riconosca peccatore perduto è bisognoso di salvezza e adesso concludiamo con queste parole con un cuore onesto dopo l'illustrazione del video che avete visto potete ancora dire di non aver trasgredito tutti i dieci comandamenti potete ancora dire se io oggi vi rifacessi vi ripetessi l'affermazione di ieri quando ho detto tu hai trasgredito tutti i dieci comandamenti e tu magari ti sei difeso dicendo no io non rubo non uccido non tradisco mia moglie oggi puoi dire che è così si onesto davanti alla parola di Dio la parola di Dio non io dice che se trasgredisci un punto sei colpevole su tutti i punti e quindi avendo detto una mezza verità sei trasgressore di tutti i punti sei adultero sei omicida sei un ladro e per questo meriti la condanna quella condanna la presa su di sé Gesù se tu vai a lui e riconosci il tuo bisogno di salvezza riconosci di essere un peccatore perduto egli avendo pagato già il prezzo per te oggi stesso ti dona la salvezza quella salvezza che solo lui può dare perché noi come abbiamo visto con le nostre opere e con i nostri sforzi non potremo mai soddisfare la giustizia di Dio e allora che cosa devi fare dopo aver ricevuto Cristo lascia vivere Cristo nella tua vita una volta che egli è entrato nella tua vita lascialo vivere nella tua vita lasciamolo vivere al posto nostro ed egli ci guiderà ogni giorno nelle sue vie e adempirà per mezzo della nostra vita quello che egli desidera per noi quello che egli vuole per noi egli chiede solamente proprio disponibilità Mario fatti da parte e lascia vivere me poi ci penso io e quando vive lui e agisce lui di conseguenza quando egli fa nella nostra vita anche noi facciamo diventiamo strumenti per la sua gloria quando egli vive in noi allora solo allora saremo degli strumenti utili per la gloria di Dio quindi e concludo agli amici ancora voglio farvi l'invito di andare a Cristo e a noi che l'abbiamo ricevuto come personale salvatore lasciamolo vivere nella nostra vita attingendo ogni giorno dalla grazia di Dio che è l'unica che può darci le risorse necessarie per poter vivere una vita nel riposo e nella pace più assoluta che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori che questa parola possa germogliare e portare frutto per la gloria di Dio sia per chi conosce già Cristo e sia per chi ancora non lo conosce andate al Signore in Cristo ancora oggi c'è salvezza Amen